Un'inizio! Mercanzia 2011 80 spettacoli ogni sera, lo sapete, 100 repliche un menù adatto per ogni gusto dal teatro di ricerca alle street band, alle parate, alla festa al cielo dove volano decine e decine di lanterne luminose, di sfere, ai sottosuoli di questo borgo magico dove per pochi spettatori chi vuole può prenotare uno spettacolo tutto per sé, insomma vi potete veramente immergere in un magico mondo, all'interno delle mura del centro medievale di Certaldo Alto, patria del Boccaccio, tra decine e centinaia di artisti, decine e centinaia di artigiani, decine di installazioni, sembra quasi di essere in un mondo perfetto.